Ciao, sono Cristian Colusso di CorsoBatteria.com e benvenuto in questa lezione estratta da Drum Experience, che è un mio corso multistilistico in cui tratto i fondamenti di un sacco di linguaggi provenienti da tutto il mondo. Parliamo oggi di figure d'insieme sul rock pop. Per figure d'insieme intendo delle figure che tutto il gruppo deve sottolineare durante l'esecuzione di un pezzo. Ci sono vari modi di interpretare queste figure, perché per quanto riguarda la batteria si tratta spesso di interpretazione. Come primo approccio ti farò sentire una base che troverai all'interno di Drum Experience, costruita attorno a una mia struttura da Fabio Valdemarin, in cui ti dimostrerò appunto come accompagnare in modo molto semplice e sottolineare queste figure d'insieme che man mano arriveranno durante questo pezzo. Molto molto semplice, un primo approccio. Non suonerò feel di alcun genere, nessuna variazione strana, semplicemente andrò, cercando di mantenere il groove più lineare possibile, a sottolineare queste figure. Buon ascolto e a presto su corsobatteria.com Buon ascolto e a presto. Buon ascolto e a presto. Buon ascolto e a presto. Buon ascolto e a presto.